Il MCM Buongiorno, io sono Francesco Oggi spiegheremo il MCM uguale, significa minimo, comune, multiplo ovvero quei numeri che è il multiplo di tutti i numeri considerati ma è il più piccolo mettendo metodo intimistico esempio, 10 e 20 insieme M10 i suoi multipli sono 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 e puntini puntini che sta chiudendo la parentesi di M20 insieme ai multipli di 20 sono 0 20 40 60 80 e puntini 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 e 100 e puntini perché sono infiniti vado a cercare i multipli uguali uguale a 20 dobbiamo trovare i multipli di 20 e 10 uguali che sono 20 40 60 80 e 100 diciamo ora intersechiamo gli insiemi 20 20 40 60 0 20 40 60 80 80 e 100 ora presentiamo con l'insemmistico dobbiamo fare i cerchi di dito all'alto perché tutti i multipli di 20 appartengono ai multipli di 10 di 10 allora dobbiamo scrivere 20 40 60 80 e 100 vabbè 10 no 30 50 70 90 e 110 ma il più piccolo è 20 allora dobbiamo fargli un bel cerchio rosso questo è m cioè m uguale a minimo comune multiplo finito il video ora riparteremo cioè graditevelo e buona lezione rivederci